Sono davvero tempi assurdi questi in cui stiamo vivendo. Gente che dice sui social network che gli altri non devono dire cose sui social network. Meraviglioso. E allora in questa domenica post delirio, post derby, post tutto, volevo fare con voi una chiacchierata riguardo alcuni pensieri che mi frullano nella mia testa. Sto leggendo come tutti voi deliri totali sui social, schieramenti clamorosi, soprattutto ovviamente riguardo al macro tema di Massimiliano Allegri. C'è chi lo venera, lo idolatra, si è tatuato la faccia di Allegri che dice halma halma sulla pancia. Invece è di contro, ci sono tutti i tifosi che vorrebbero crocifiggere Allegri in sala mensa. Come ben sapete la politica del mio canale, cioè il mio modus operandi, è molto diplomatico, è molto lucido almeno. Questo non vuol dire che sia giusto ragazzi, però è il mio metodo. Io critico quando c'è da criticare, elogio quando c'è da elogiare. Non sono né un idolatra che si mette le statuine della dirigenza bianconera in cameretta, ma non sono nemmeno un disfattista che tutti i giorni viene a promulgare odio verso un calciatore, verso l'allenatore qui sul mio canale YouTube. Ma quello che sto leggendo ultimamente sui social mi farà brividire. Sapete, io ho iniziato a tifare Juventus nell'87, avevo 7 anni, mio padre mi portò a vedere Inter, Juve a San Siro, noi siamo di Milano. Mio padre aveva un papà, quindi mio nonno, che era interista, quindi non ho una tradizione bianconera nella mia famiglia. È soltanto mio padre, io ho preso la fede bianconera da lui. È un uomo di 72 anni mio padre, mi assomiglia molto, è un pochino più riservato di me. Lui tifa Juve da sempre, lui è molto critico sempre, anche quando vinciamo Scudetti fa fatica a festeggiare perché dice sì, però abbiamo giocato male, però quella partita lì trova sempre il pelo nell'uovo. Però a mio padre non gliene frega niente se la Juve non ha tenuto De Miral o non è preoccupato per niente se Kuluseski sarà un crack al Tottenham. Ragazzi, la vita va avanti, ci sono giocatori fortissimi che sicuramente gli sono rimasti nel cuore, come sono rimasti nel cuore a me. Tra l'altro a volte paradossi di noi juventini, io ho visto elogiare delle capre totali a giocare a pallone solo perché avevano una grossa carica e una grossa fede bianconera, mentre ho visto denigrare, criticare anche a distanza di vent'anni i calciatori più forti del mondo solo perché hanno sbattuto la porta e sono andati via dalla Juventus. È un modo di fare che non capisco sinceramente. Quello che però voglio discutere con voi oggi non è fare il trattato sulla mia vita o sulla vita di mio padre o su come si tifa, perché io non ho niente da insegnare a nessuno, ognuno di voi tifa quello che vuole, sono una persona di mente molto aperta, quindi siate quello che volete, credete in quello che volete, non sono certo io a fare le prediche a nessuno. Però se permettete, ogni tanto qualcosa mi farà brividire. Ho visto un amico scrivere sui social ieri sera delle frasi una dopo l'altra che non solo non condivido, ma che sono veramente paurosamente preoccupanti. Ho visto scrivere senza allegri saremmo decimi. A parte il fatto che nessuno ha la controprova per una roba del genere, ma dire una frase del genere significa dire la nostra rosa fa schifo, la nostra rosa è da metaclassifica. E allora no, perché lo stesso amico ti direbbe no, abbiamo ottimi calciatori, la dirigenza superstar, perché poi non puoi criticare né la squadra né la dirigenza, e allora la tua frase non ha nessuna base. Perché se dici che arriviamo decimi senza allegri, vuol dire che o la rosa fa schifo, o la dirigenza che ha allestito quella rosa ha lavorato male. No guai, non si può. Lo stesso amico dice che Allegri ha vinto più trofei di Emery. Ragazzi, io non so come la pensate voi, visto che anche Emery, come Allegri, ha vinto diverse coppe, supercoppe nazionali, stiamo mettendo sullo stesso piano 5 scudetti di Serie A e 4 Europa League, 4 coppe UEFA. Secondo voi pesano di più 4 coppe UEFA o 5 scudetti? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Sempre lo stesso amico che saluto, ciao caro, dice infine, mi raccomando, martedì vinciamo con Villareal, poi tornate tutti sul carro. Anche questa è una frase che non posso non commentare. È una frase che non vuol dire nulla, perché se vinciamo col Villareal, a parte che poi c'è il ritorno da giocare, quindi ancora non abbiamo chiuso la pratica, ma anche se fosse passare il turno agli ottavi, non è un trofeo che metti in bacheca, ma anche se fosse vincere col Villareal e fare una bella partita col Villareal, ci renderebbe tutti contenti e diremmo oh, finalmente una bella Juve, finalmente, bravo Allegri, che si è svegliato, che ha fatto giocare i giocatori così, bravo Vlaovic, bravo Rabiot, bravo Alexandro. Alessandro, cosa vuol dire ritornare sul carro? Perché la Juve vincerebbe, poi lo vedremo, una partita. Capite che qui si stanno creando degli schieramenti, da quando esistono i social network, che mi fanno rabbrividire. Non è soltanto nel calcio, perché tutto lo scibile umano, dai commenti a Sanremo, alla geopolitica della situazione russa, ai dati grezzi sui vaccini, alla situazione del Parlamento italiano, di quel decreto, tutti sanno tutto di tutto. E io ho avuto un'esperienza prematura con i tuttologi, di questi personaggi che pensano di sapere tutto senza avere esperienza di vita, senza avere esperienza nel campo. Quando avevo 13 anni, voi sapete che a me piace la musica, mi piace suonare, quando avevo 13 anni, avevo un compagno di classe che prendeva lezioni di chitarra da due mesi e mi ricordo che disse Slash, chitarrista dei Guns N'Roses, no, è impostato male, poi ha una configurazione degli effetti che non funziona, disse il 13enne che prendeva lezioni di chitarra da due mesi. Io ho iniziato a conoscere i tuttologi lì e più sono andato avanti, più sono cresciuto e poi con l'avvento dei social network che hanno dato proprio una mazzata finale a questa roba, perché ognuno si sente libero di dire quello che vuole e ci sta perché ognuno di noi abbia delle opinioni su tante cose, ma non ci sta tanto che ognuno di noi abbia da insegnare a tutto il genere umano riguardo a tutti gli argomenti. Cioè, ognuno di noi è bravo a fare qualcosa, ma non tutto. Cioè, noi siamo come una torta a cui manca una fetta. Quella fetta lì è tutta la roba che noi non sappiamo fare, non conosciamo. E quindi, almeno per quanto riguarda quella fetta lì, fidiamoci di chi le cose le sa, fidiamoci di chi quel lavoro lo fa. E allora sono d'accordo con altri amici che dicono ma voi cosa ne sapete di come si gestisce una squadra di calcio? Ma voi cosa ne sapete di come si allena una squadra di calcio? L'avete mai fatto? Tu che fai il pasticcere, tu che fai l'operaio metalmeccanico, tu che fai l'agente di commercio, tu che fai la casalinga disperata, cosa ne sapete delle transizioni, degli schemi, delle triangolazioni di come si allena un calciatore. È vero, ragazzi. Però è altresì vero che da che mondo è mondo esiste il calcio e quando c'erano le partite, una volta erano tutte la domenica, il lunedì si andava al bar e ci si lamentava o si gioiva o si facevano gli sfottò i tifosi amici delle squadre avversarie. Da che mondo è mondo il calcio è così. Io da che mondo è mondo guardo la Juventus perché io amo la Juventus, quindi non devo né scendere né salire da nessun carro perché per me la Juventus non è Massimiliano Allegri, per me la Juventus non è Paolo Di Bala, per me la Juventus non è Andrea Agnelli. Per me la Juventus è la Juventus e quando sono nato e cresciuto ero piccolo, non era presidente Andrea Agnelli, non era allenatore Massimiliano Allegri, c'erano tutt'altro che dei giocatori di oggi, era tutto un altro mondo e tifavo Juventus e continuerò a farlo, quindi io non devo scendere né salire su nessun carro. Io vedo una dirigenza che però nell'arco degli anni ha fatto tanti errori, ma sono palesi e non si possono dire? Allora, io mi ricordo uno degli errori di valutazione di giocatori più clamorosi è stato Henry, Henry che da noi giocava quasi terzino e poi andando via divenne uno dei migliori numeri nove della sua generazione. Mi ricordo un Vieri tenuto soltanto un anno e poi venduto da Moggi, Vieri che divenne uno dei migliori attaccanti italiani degli ultimi trent'anni. negli ultimi anni voi sapete dirmi vi ricordate un calciatore che era forte prima di venire alla Juve e che alla Juve è diventato ancora più forte? Ce ne sono stati, ma io voglio sapere da voi qual è l'ultimo secondo voi che il cui percorso è stato così. Era forte prima ma da noi è diventato un crack, è diventato un campione. ricordatemi qualche nome qui sotto nei commenti perché purtroppo purtroppo io vedo negli ultimi anni soprattutto gente purtroppo andar via dalla Juve diventare più forte andando via. Mi ricollego a quello che è successo ieri sera con Kuluseschi che ha fatto assist e gol col Tottenham in casa del Manchester City che ha vinto il Tottenham questa partita. Kuluseschi insomma è stato uno degli uomini partita. Bentancur ha fatto un assist pazzesco e allora tutti tutti tanti Juventini sui social a dire ecco vedi erano fortissimi da noi non sono stati valorizzati mi ha ricordato tutta la solita menata di Cancelo. C'è un iscritto uno di voi che è abbastanza monotematico lui lo sa glielo ho sempre detto parla soltanto di ogni volta che si parla di Danilo che è un giocatore che secondo me è fondamentale è un leader in campo è un professionista serio io sono molto contento di avere Danilo nella nostra rosa ma ogni volta lui non riesce a non parlare di Cancelo di Cancelo che per lui era meglio di Danilo che abbiamo fatto una stupidaggine e bla 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 beh è vero concettualmente può essere vero quello che sostiene questo amico potrebbe essere vero che Cancelo è migliore di Danilo sono due giocatori totalmente diversi ma lo stesso amico rifiuta ogni critica verso la dirigenza bianconera e allora amico mio dico a te quello che ho detto prima riferendomi a un altro amico scusami ma se tu pensi che sia stato fatto un errore dando via Cancelo per prendere Danilo ma allo stesso tempo non vuoi critiche verso la dirigenza c'è qualcosa che non va nel tuo ragionamento c'è qualcosa di profondamente sbagliato insomma ragazzi vi ho dato un po' di idee un po' di pensieri vi ho detto tutto ma in realtà non vi ho detto praticamente niente vi sto semplicemente raccontando di alcuni deliri social di alcune persone che si ergono a professori nei confronti di altri dicendo ma voi cosa ne sapete che non avete mai allenato la Juventus e lo dice uno che nella vita fa qualcosa fa l'operaio fa il giornalista fa l'opinionista fa gestisce un'edicola non ve lo sta dicendo un allenatore affermato che ha vinto tra i Champions League capite? capite? allora io una frase del genere me la posso accettare da un professionista serio che mi dice oh calmi perché ve lo dico io come funzionano le cose ma se ce le diciamo tra di noi non funziona questa cosa io che faccio l'agente di commercio il consulente lavoro nel mondo della moda il mio parere sul calcio vale quanto quello di uno che fa l'operaio metalmeccanico l'idraulico o anche l'opinionista stesso o il giornalista stesso perché un giornalista ne deve sapere più di me di calcio non è un addetto ai lavori non è uno che allena non è uno che gestisce una squadra di calcio eppure eppure in questo delirio social ci sono le vedove dei calciatori andati via ci sono i professoroni che devono spiegare sempre come funziona il mondo del calcio ci sono i disfattisti totali che gettano merda o sperano che la Juve perda solo perché quell'allenatore o quel calciatore gli sta sulle balle e allora non vedono l'ora che vada via ragazzi è un mondo che non mi appartiene è un dibattito in cui io cerco di non entrare io ho semplicemente twittato una cosa e vi saluto con questa ultima mia frase ho twittato ieri una cosa che è quello che penso io penso che sia giusto e da persone intelligenti avere critiche verso Massimiliano Allegri e sostenere il fatto che ci stia deludendo perché tutti noi avevamo delle aspettative migliori su di lui superiori su di lui speravamo che gestisse meglio il gruppo che facesse vedere un gioco corale che avesse anche dei risultati migliori e quindi secondo me senza scadere negli insulti è giusto secondo me ogni tanto dire non sono soddisfatto di Massimiliano Allegri ma la tristezza la tristezza è che vedo gente far parte di certi gruppi perché sapete che noi juventini siamo divisi purtroppo in fazioni gruppi amici degli amici gente che lo pensa veramente a casa sua quando è rinchiuso in bagno a fare la cacca pensa e dice sì ma Allegri sta facendo un campionato osceno sta veramente gestendo male ma non lo può dire non lo può dire perché tutti i suoi amici sono allegreani e allora per non scontentare nessuno non lo dice e fa finta di niente oppure dice no Allegri yuhuu il miglior allenatore della storia del mondo del calcio forever ma non è la verità e quella persona è alle ali tarpate non dice quello che pensa siamo arrivati a questo ragazzi i social network i social network che appena ti esponi in un modo o nell'altro arrivano gli haters di una fazione o dell'altra e allora è un tutti contro tutti quando in realtà dovremmo essere una tifoseria unita contro le altre tifoserie contro chi affossa la juventus chi ci accusa di tutte le malefatte del genere umano invece ci ammazziamo tra di noi tra virgolette ammazziamo tutti i giorni tutti i sacrosanti giorni ragazzi è stato bello chiacchierata domenicale così noi ci vediamo molto presto spero domani sera ma non ve lo garantisco per impegni di lavoro impellenti che ho male che vada ci vedremo martedì sera dopo la partita di champions league per il solito post partita sempre forza juve sempre comunque forza juve ciao ciao